Ed eccoci con Paola Riccardi, vicepresidente di Fotografi Senza Frontiere, alla quale vorrei chiedere come si svolgono i loro laboratori, non solo fotografici, non so se fanno anche altro, però come si svolgono ma soprattutto qual è il loro intento quando lavorano insieme alle persone, insieme ai ragazzi, nelle aree più difficili del mondo. Allora, si svolgono diciamo basandosi sull'apprendimento cosiddetto learning by doing, ossia imparare facendo e quindi in grande libertà espressiva, in grande libertà di pratica artistica. Si fondano sull'autorappresentazione, quindi su una rappresentazione di sé diciamo non condizionata e puntano soprattutto come risultato finale nel dare a questi ragazzi uno strumento per diventare, diciamo per passare da soggetti passivi della comunicazione, da oggetti passivi della comunicazione a soggetti attivi, per cui anche nella comunicazione, nella documentazione legata alle loro realtà, a finalmente diventare soggetti e coloro che narrano le loro storie. Quindi autorappresentazione, partecipazione, coinvolgimento, affrancamento anche da situazioni di segregazione culturale, di inferiorità culturale.